Si sa che il tiramessù è un dolce prettamente trevigiano, ma è anche risaputo che nel Veneto tutto è accomunato da usi e costumi simili, per cui molte ricette tipiche di una determinata zona vengono con il tempo acquisite da un'altra. E' il caso di questo semplice spessito dolce che ho il piacere di gustare spesso in ristoranti e case private della nostra provincia. L'elemento essenziale più importante è senza dubbio il mascarpone, che deve essere prestissimo e acquistato dal casaro ancora tenerissimo e cremoso. Solo così si avrà la certezza di preparare un dolce veramente squisito, gradito anche ai bambini e alle persone anziane che hanno bisogno di essere tirati su con qualcosa di dolce che affevolisca tutte le amarezze e i dolori accumulati durante una vita. A Cittadella preparano un dolce simile usando al posto dei savoiardi la polentina. Nel nostro link troverete ingredienti, preparazioni e dose per sei persone. Ricetta tratta dal libro La Cicina Vicentina di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi, acquistabile nelle migliori librerie e shop online. Viene consigliato Cabernet di Breganti.